e gli altri non me li hai fatti vedere guardia comprati cino come sapere un po ne ho compreso in 47 se la mappa tipo era la mia preferita quando gioco a crescere classificata perché hanno molto molto e molte partite non molto partite molte mappe alla uglione che mi vuole spendere o vuota per chiccare mystical porco perché non prendere la faccita sinistra sono mie spalla no ma perché chi cazzo che vota per buttarti fuori così di buttare i tre coglioni ma un po che sito c'è uno livello 122 che è inizio mamma mia che pippa su e che livello che siete il cita che livello che sei perché io lo sei punto di sette o ma che cazzo che mi spara con don di dove era il parlo faccio spara giletano mamma mia se lo giocavo fa gente veramente mi cazzo dai fai di spara in un vero adesso da un di merda ma un pochino cazzo 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 ma perché ci stiamo tutti sparando a minchia prendiamo cazzo o no oh ma per questa cosa smette in mezzo al cazzo o brutto figlio di puttana fammi andare via guarda ancora buzio con il cazzo cazzo per su tutti i doppi figlio di puttana inczenie ma no ma va torna per entrare a sta attento da dove? da sotto io non ho messo neanche una cam sotto io non so neanche come si fa no ma solo io posso farlo perché ho la specialità poi con gli operatori 25.000 puoi scegliere cosa fare aspetta ah no johnny ah si te è caduto da adesso quanto è di sensibilità? io non ne ho idea non ci ho guardato ancora però comunque non è bassissimo perché i movimenti sono abbastanza fluidi vabbè se questo gioco fa tutto adesso adesso mi devo riavituare no ma che cazzo tigre lui ah ma ho ucciso il cecchino di merda va da dove? è da dalla finestra quella aperta vicino alla alla zona alla come si è la zona all'esplosivo di sopra di sopra ma sti cazzi ma sti cazzi ma che cazzo è di z come si fa a vedere di andare in opzione di andare in opzione e vedere la sensibilità quanto ce l'ho la sensibilità verticale e sensibilità orizzontale quella sensibilità verticale o 10 orizzontale 20 però c'è boh mi sto trovando proprio male 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 io lo so 45 e 35 dovrei farti capire quando cambia oh se mi rubate asci di oca allora alleluia bello come uscite un chitiamo 5 contro 2 sono 4 che contro 2 a me mi ha fatto vedere che sono 4 allora lo che è studio cazzo non li vedi un altro destra ok io non ho i miei io stai direi che il problema è che stiamo appena riconosco quindi non so proprio la casa non arriva da mente tu vieni con me si asciugano non ho potuto tu rompi il scuola no non scuola il suddito libero profondo ah non ne abbiamo mica trovati si si non si troviamo tranquilli ma ci sono due bombe si e quale hai bisogno di disinnescare no tu non devi disinnescare tu planti un defuser dove cambiamo il defuser che invece è la��ve le pre o non è dil cagli 8 n d apri quella botola con r1 no no con r1 non scendere non c'è nessuno scendo 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 tanto mi prendono da dietro oh mio io tu guardi cerca di che l'fusero ha stato disabilito bella porco dio da dove tanto deve scendere io spacco il muro no non ci credo dove c'è che la puttana di mamma è dietro al muro rotto dietro in fondo al muro rotto dove c'è il muro rotto che sotto c'ho piazzato la zona io adesso è andata via però però mi ha sparato da lì aspetta santo ce n'hai uno sotto le ok no l'ho ucciso no 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 tanto c'è il cavera appena rotto quella porta è che ho visto che qua porco dio se fai headshot si sciolgono un coltino ecco la cosa bella si cioè se sei un attimo bravo riesci a giocare si prego non fatemi visto che ho pochi personaggi non voglio prendere il tipo il pil come cazzo si chiama la recluta la recluta di merda ma perchè sulla recluta non c'ho i mirini non c'ho i mirini sboroni no no sulla recluta non puoi averli mirini dove quel problema perchè sennò non sarebbe neanche male c'ha c'ha le bombe quelle buone secure the bombs però uno sborone sborone smoke si è forte questo lo sai anche sara del top 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 io mi sto un attimo preparando una paglia eh tanto ci sono prima di venti secondi ci sono tutti ok si non ho finito ritorno nella parete prima ho quitato vai sono venuto da te perchè praticamente è iniziata la partita è iniziata l'ultima partita che faceva ancora lì avevano vinto l'ultimo round inizia uno dei nostri sparà caveira io ero dietro caveira si gira mi uccide e poi continuano a camminare si scemo oh bastardo sono one non l'ho fatto apposta oh sei one non puoi die sessanta no allora non sei one però sei tranquillo cioè sei sei oh c'è qua il la corazza non la prende neanche perchè tanto ormai libera oh cazzo ah io la prendo da mi interessa abbastanza vincere così prendo più punti where are ah i don't know is out but this one is there te l'ho detto io o è raro eh i miei occhio sono qua sono qua sono qua sono qua santo 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 madonna questo come l'ho inquieto da dietro oddio santo siamo più di te noo è one è one da me è one da me è one da me è una cosa si 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 che mira del cazzo che c'ho ah aspetta ha una cosa tipo 5 di ha una cosa tipo 5 di vita no 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 Grazie a tutti.